Finalmente abbiamo ottenuto la relazione dei servizi sociali nella quale si dice che le mamme stanno crescendo, i bambini che tra l'altro si avvicinano all'anno della nascita, li stanno crescendo in condizioni del tutto normali, quindi hanno la capacità di alternarsi nei rispettivi compiti, nelle attenzioni da dare ai bambini, nell'alternanza casa-lavoro e in più godono dell'appoggio delle rispettive famiglie. Questo è il primo ma fondamentale passo in avanti nella vicenda delle due mamme di Anghiari, gli assistenti sociali che hanno preso in carico la richiesta di adozione avanzata da una delle due donne ha dato parere positivo. La difficoltà, ma devo dire che c'è stata una maturità discreta, è quella di dire che devo passare da questa porta, necessariamente butterò giù anche l'esame che mi fanno come mamma, ancorché io sia mamma da sempre. La vicenda era emersa nel giugno 2022 dopo la nascita dei figli della coppia, due gemelli. All'anagrafe però solo la mamma che li ha partoriti ha potuto riconoscerli. Qui diciamo che la pesantezza probabilmente viene percepita anche su un doppio livello, perché l'ha adottante, quindi quella che ha incaricato me di depositare il ricorso, è proprio la madre biologica. Era così iniziata la battaglia legale in tribunale ad Arezzo che si era conclusa con il parere negativo del collegio giudicante. È comprensibile la posizione del tribunale, nel senso che non siamo istituzionalmente incaricati di superire a quelle che sono le mancanze legislative, chiaramente si passa la palla al legislatore. Però tutto questo, se vogliamo, altro non è a contraris che la dimostrazione che quello che abbiamo sempre sostenuto sin dall'inizio sia questa voragine che abbiamo oggi allo Stato e come succede diverse volte in Italia occorre agire all'ostacolo. Adesso il percorso della coppia prosegue al tribunale dei minori. Io mi auro, me lo auro chiaramente soprattutto per loro che si riesca a ottenere in tempi ragionevoli l'udienza nella quale loro verranno personalmente ascoltati, se vogliamo anche per la prima volta.